Una giornata interamente dedicata alla pulizia delle spiagge. Si chiama Pesca di Plastica, la manifestazione organizzata dalla sezione di San Fuoca della Lega Navale Italiana in collaborazione con FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. 13 chilometri di litorale delle marine di Melendugno che sono stati liberati dai rifiuti da Torrespecchia fino a Sant'Andrea. A partecipare all'iniziativa non solo i soci della federazione, ma anche tanti cittadini che hanno sposato la causa avendo a cuore la tutela del nostro mare. L'obiettivo è quello di promuovere le buone pratiche ambientali e sensibilizzare sull'importanza di preservare questa risorsa così preziosa per il nostro territorio e la nostra economia. Il Salento vanta infatti una delle coste più belle d'Italia e il suo mare cristallino è un patrimonio inestimabile, la cui salvaguardia non può e non deve essere solo carico delle istituzioni. Oggi è una grandissima giornata e si sta scrivendo probabilmente una prima pagina di una nuova cultura dell'ambientalismo qui nella zona di Melendugno. Infatti per la prima volta abbiamo deciso di collaborare finalmente tutti quanti per organizzare delle manifestazioni che si articoleranno in due giornate. Questa è la prima che riguarderà quindi la pulizia di tutte le spiagge delle marine di Melendugno, quindi partendo da Torre Specchia per arrivare fino a Torre Sant'Andrea. E una seconda giornata che invece riguarderà la pulizia dei fondali che riguarderanno innanzitutto tutti i fondali del porto di San Foca e useremo anche, grazie al conforto anche della Capitaneria, i nostri sommozzatori professionisti per andare a pulire gli anfratti e le insenature non raggiungibili se non attraverso il mare da tutti i residui plastici e delle microplastiche che oggi sono presenti, che purtroppo sono presenti. Tutto il materiale raccolto verrà poi portato in piazza dove il personale specializzato provvederà alla rimozione e al corretto smaltimento.